Agguato questa mattina dopo le 7.30 in via Piave a Silvi Marina a due passi dalla SS16 dove un giovane a bordo di uno scooter si è affiancato all'auto del direttore della motorizzazione provinciale di Chieti, Nino Mario Presutti, esplodendo un colpo di pistola verso il lato del guidatore. Fortunatamente il proiettile si è conficcato contro la carrozzeria della vettura mandando in frantumi il vetro. Il malvivente è poi scappato in direzione della strada nazionale adriatica facendo perdere le sue tracce. Presutti fortunatamente illeso ma in stato di shock ha immediatamente chiamato i carabinieri che sono arrivati dopo qualche istante dalla vicina caserma. Nino Mario Presutti, 57 anni, vive a Silvi ma è originario dell'Aquilano. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giulianova e della locale stazione. Gli inquirenti hanno già ascoltato Presutti e nelle prossime ore ascolteranno eventuali testimoni. Il momento potrebbe riguardare questioni di lavoro o personali. Il riservo è massimo, le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Teramo.